buongiorno super fan abbiamo qui gaetano da eboli provincia di salerno allora gaetano mi è stato appresso per parecchi mesi stefano prima o poi verrò da te a montare questo car tablet è stato di parola eccoci qua allora tra tutte le dirette che ha eseguito rispetto al vivo e come ti sembra dal vivo è proprio un'altra cosa addirittura un'altra cosa io mi immaginavo qualcosa di bello ma così veramente mi ha stupito hai visto che bella la linea si si assembla bene integrato perfetto allora andiamo subito in dimostrazione per tutti coloro che mi chiedono stefano bellissimo ma il contachilometri come vedo la velocità tac non lo sapete contachilometri tac ripremi e va via quindi quando volete sapere la velocità in digitale premete qua ovviamente ecco qui navigatore musica bluetooth abbiamo inserito la usb nel cassettino andiamo in radio ovviamente i comandi al volante non ci sono per le mini che hanno il comando a volante l'andiamo a recuperare anche per le mini che hanno le luci ambiente qui circolari effetto luce andiamo a recuperare tutto luci ambient sportelli abbiamo prodotti che recuperano tutte le funzioni della mini ovviamente abbiamo il contenitore android eccolo qua parliamo di un octa core 4 giga di ram rom 32 giga stiamo su youtube beh oggi torni a salerno senza avere lo smartphone smartphone qua con il navigatore ma vai direttamente con questo prodotto strevitoso navigatore offline quindi anche se avete problemi di smartphone non ce l'avete appresso potete usare il navigatore offline poi abbiamo google eccoci qua possiamo dividere lo schermo in due ho detto una stupidaggine non si può dividere questo è android 8 sul 7.1 si poteva fare niente ok allora vediamo un attimo i chilometri che hai fatto per venire qua gli puoi dare la destinazione vocalmente sei pronto e facciamo una simulazione del viaggio di ritorno e bolli ma stasera di poche parole proprio ha indovinato perfetto andiamo a vedere quanti chilometri due ore e cinquanta sei a destinazione ecco qua 279 chilometri due ore e cinquanta minuti io ti ringrazio sei stato gentilissimo rimango a disposizione ovviamente garanzia o no noi diamo due anni ma non è nessun problema addirittura uscirò a fine anno inizio anno prossimo con tre anni o quattro anni di garanzia che ne pensi sei un grande grazie a tutti voi senza di voi non sono nessuno un abbraccio